Perugia, eccolo il tecnico del Pescara Andrea Sottil, mister buonasera, complimenti, io parto dall'ultima domanda perché poi parleremo di questa partita e di quello che è stato questo campionato. Andrea Sottil si aspetta la conferma dopo aver salvato il Pescara? Ma intanto mi hanno chiamato per salvare la squadra, pensavo di soffrire un po' meno ma sono contento che è arrivata secondo me anche in modo meritato e mi dispiace per il Perugia perché comunque è una grande realtà, però secondo me è la doppia sfida, noi sul campo abbiamo detto che abbiamo fatto di più, abbiamo fatto di più secondo me, questo è il mio parere tecnico ma mi auguro, mi auguro di, per me sarebbe una grande cosa continuare questo lavoro. Ma non lo possiamo dire, c'era un patto, c'era un accordo che in caso di salvezza si sarebbe discussa la conferma, possiamo dire qualcosa a questo punto visto che c'è la salvezza in cassaforte? C'era una parola nel senso che poi il Presidente giustamente fa le sue considerazioni, io tanto sono contento e ringrazio la proprietà, ringrazio il Presidente, ringrazio Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti che mi hanno scelto, il Presidente mi ha sempre fatto dal primo giorno sentire la sua fiducia come Repetto, come Bocchetti, i ragazzi anche mi hanno seguito, li ringrazio perché sono loro i veri protagonisti di questa salvezza e mantenimento della categoria. C'eravamo detti che a fine salvezza ci saremmo seduti, io sono a disposizione e ripeto sarei ben contento di continuare. Sottil, adesso lo possiamo dire e ne parlavamo anche con il Presidente Sebastiani, che cosa è accaduto dopo la gara di Verona? Perché in queste due gare dei play-out abbiamo visto una squadra, una squadra dominare il Perugia all'Adriatico, dominare oggi il Perugia allo Stadio Renato Curi, avete attaccato per 80-90 minuti su 120, avete anche rischiato alla fine, squadra tra l'altro messa molto bene anche dal punto di vista atletico e fisico, ma direi soprattutto di testa. Che cosa è riuscito a fare questa squadra in così pochi giorni? Io sono arrivato, non volevo essere una critica per chi mi ha preceduto, perché non sono proprio la persona, che credo io rispetto sempre tutti, però secondo noi e i miei collaboratori la squadra era abbastanza in deficit di intensità e di condizione fisica, ma più che altro di intensità, quindi non era semplice andare avanti, scalare avanti, quindi abbiamo dovuto gestire, però grazie anche al mio staff, li ringrazio, siamo stati lì molto metodici e abbiamo cercato di mettere dentro quello che si poteva mettere senza fare danni, perché poi rischi magari di fare troppo e quindi magari i giocatori poi si fermano, qualcuno l'abbiamo perso, però è il rischio del mestiere. E tanto lavoro sulla testa, tanto lavoro sulla testa è una cosa che io ritengo fondamentale, alle volte spesso si dimentica la mente, ma la mente va allenata. Questi ragazzi, per me sono degli ottimi calciatori, glielo ho sempre detto dal primo giorno, dal primo giorno loro lo sanno, io non faccio frasi fatte adesso perché siamo salvi, ho detto voi siete ottimi giocatori e dovete cominciare a giocare più liberi, ogni tanto andavano in campo col braccio frenato, abbiamo fatto un gran lavoro anche sulla mente, sulla convinzione e loro l'hanno dimostrato in queste ultime due partite. Sottil, è stata una doppia sfida molto difficile e lo si sapeva contro il Perugia, che è una squadra che è stata costruita per ben altri obiettivi, però io le chiedo, quando Masciangelo si è portato sul dischetto per battere quel rigore, lei che cosa ha pensato, che cosa ha provato? Ma la devo dire tutta, ero talmente intransagonistica che pensavo fosse il penultimo rigorista, e invece era l'ultimo, ma io in mezzo al campo ho chiesto a loro chi se la sentiva, chi se la sentiva di calciare, loro si sono presentati, sono stati straordinari. L'ultima, Sottil, ora vacanze meritate, poi si penserà a quello che sarà il futuro, ha sentito suo figlio, che del Pescara è stato giocatore? Ma ancora no, perché abbiamo festeggiato, giustamente, mi sono fatto la doccia, mi sono cambiato, adesso lo sentirò con calma.